Il responsabile alla grande appena all'inizio però è bellissima la strada erano nemici degli aldobrandeschi che hanno scritto con lettera minuscola invece di tenere tutto maiuscolo come sono le altre iniziali di nomi propri è venuto di proprietà degli aldobrandeschi con la piccola invece il resto vedi tutto con lettera maiuscola non è male guarda che bello ci hanno fatto il forno ma non c'è il cosciotto di vitello comunque certamente era qualcosa qui per fuocere eh sì no questa qui era quella da incomodato gratuito al figlio non c'è il per tutto e gli amici tratteggiano leggono ma questa non c'è il per tutto 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 oggi completamente e dall'esterno se li conoscono due canne fumare non c'è il per tutto le canne fumare quali? vorrebbero essere però si sentono odori di fumo ma ma non c'è il per l'esterno impressionante ma se ne so abbiamo la i nostri antenati vivevano così un certo divisorio qua che praticamente è crollato lo si vede però ma avete visto una cosa queste ducche e ci andavano a compiare i fatti e poi c'era attico e superattico c'era come lì che dormivano i piedi sopra diceva senza ascensore ma c'era una specie di riposti è un po' e ora vengo pure rilassi questa che è è mica tanto eh era un auditorium ma questo no? questo no? questa è proprio bella a ver ma sono anche eccessivamente grandi che era una cava questa? si dice che era adibita alla preparazione del sol nitro ah si si per esplosivo questo era quello che era da fare io pensavo che avremmo fatto quello ma non lo so vivitarci alla zona vivitosa io pensavo ecco farlo tutto però ci voleva una macchina a Sorano come si chiamava questa la riccia? la riccia vedo la riccia vedo la riccia musica 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 persino una scala interna che sarebbe al piano di sopra siamo al piano di sopra piano di sopra piano di sopra e piano di sopra infatti questa è una cosa particolare si è fatto un artichetto perché quello si è fatto anche così cioè incredibile guardate che bello diremmo che questa è stata fatta da un architetto ma non come qui ed è un architetto che aveva il fatto suo con gestione delle acque guarda pure qua guarda 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 la canalizzazione perché lì poi ci sarà la raccolta il primo lavandino con l'avano vedi vedi qua ci sono sembrato dell'acqua scatto dei dei pupi per terra ma è bello e qui c'era che si aveva mangiato e qui c'era un accesso dall'aria dove stanno con le modalità ahahah questa è la bella stradina che abbiamo visto quando siamo usciti da Lini eh si a 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